In questo nostro pomeriggio di diretta Palazzo Lascaris in attesa dei risultati delle elezioni regionali abbiamo con noi Antonello Angeleri, consigliere regionale della Lega Nord. Visti i risultati delle europee, per quanto riguarda la Lega Nord è sicuramente un risultato positivo che credo sperate anche di fotocopiare a livello piemontese. Sì, sicuramente i dati che emergono dal livello europeo sono dati confortanti e premiano in fondo un ragionamento di cui tutti sono preoccupati, cioè il fatto di rimanere in una posizione rispetto all'euro, rispetto all'Europa, succube totalmente della Germania. Io penso che il sentimento comune degli italiani sia quello almeno di farsi sentire e quindi questo ha premiato il lavoro e la campagna elettorale del segretario Matteo Salvini. Per quanto riguarda il Piemonte si va a elezioni anticipate per le note vicende, ecco ora chi vincerà, i sondaggi dicono Chiamparino, dovrà comunque gestire una situazione che abbiamo avuto modo di valutarlo con altri personaggi che abbiamo intervistato fin qui in questa nostra diretta. Non pensa consigliere Angeleri che ci sia una certa forma di centralismo romano che vuole un pochino penalizzare il decentramento delle regioni? Ma questo è abbastanza chiaro perché abbiamo visto che cosa è successo in questi ultimi anni nelle varie regioni, il 90% delle regioni sono finite sotto processo per la questione dei rimborsi. È un caso, io penso che un caso non sia e quindi che sia in atto una riorganizzazione dei livelli dello Stato da un punto di vista amministrativo. Tutto legittimo, forse un po' meno legittimo quello di andare a caccia di streghe ed eliminare gli avversari in modi che con la politica ci entrano poco. Un'ultima domanda consigliere Angeleri, per quanto riguarda la nuova amministrazione che ci apprestiamo ad avere a gestire il Piemonte, la Lega è una forza politica, un movimento politico che ha sempre fatto dell'identità dei territori anche un cavallo di battaglia. Cosa si augura? Che ci sia sempre comunque un Piemonte meno torinocentrico, anche più aperto alle varie province che rappresentano una risorsa per questa regione? Ma qui innanzitutto c'è un problema di legge elettorale, perché la legge elettorale oggi probabilmente qualche territorio di confine non lo rappresenta pieno. Ma l'identità è giusto che venga salvaguardata ovunque, quindi da Torino e dalla sua provincia, fino al Verbano Cusio-Ossola e a Cuneo piuttosto che Astia-Alessandria. C'è ogni specificità, ogni pezzo del nostro territorio rappresenta una storia. E le storie, soprattutto quelle legate alla cultura, ma la cultura non solo, una cultura insensolata, parlo per esempio della cultura enogastronomica del nostro Piemonte, che è un punto di riferimento, devono essere salvaguardate, devono essere in qualche modo vendute all'esterno e questo sicuramente è un dato che farà sempre più grande il nostro Piemonte. Ringraziamo il consigliere Angeleri, linea alla regia. Ringraziamo il consigliere Angeleri, linea alla regia.